Oggi è arrivato un pareggio, però di positivo c'è la reazione che avete avuto dopo il gol, perché la squadra ha attaccato a testa bassa per provare a rimetterla in piedi. C'è riuscita e nel finale avreste potuto anche vincerla? Sì, sì, sicuramente. Diciamo che questi sono giorni di fatica, dove i carichi di lavoro si fanno sentire, quindi queste partite servono per lo più per mettere minuti nelle gambe. Poi, come va la partita, uno ci tiene sempre a vincere, però non fa niente, oggi è arrivato il pareggio. Il mister ti ha fatto giocare più alto oggi. Ha detto che si è trattata di una situazione dettata al fatto che vuole dividere il minutaggio tra tre e tutti i tuoi compagni. Tu intanto come ti sei trovato in questa posizione? Io diciamo che dove mi mettono mi mettono ci tengo a dare il mio contributo, anche in Porto, non c'è nessun problema, però il mio ruolo è quello di terzino-sinistro, quindi va bene questo, in caso di emergenza lo faccio molto volentieri. Che gruppo udinese sta nascendo il ritiro? Perché vi vediamo sempre più affiatati, anche ogni giorno, allenamento, poi in partita, lottate, vi sostenete, soprattutto voi italiani, vi state prendendo anche la responsabilità di trascinare tutti i nuovi compagni, anche quelli più giovani o comunque meno esperti di voi. Sì, sicuramente, comunque siamo un gruppo molto giovane quest'anno, quindi voi non voi parliamo la stessa lingua, abbiamo gli stessi interessi e niente. È un gruppo unito, ci stiamo compattando bene tutti quanti giorno per giorno. L'ideale è questo, l'ideale del ritiro è proprio unirsi.